la pappa reale per i miei capelli secchi è una prima assoluta da l'oreal nuova maschera il vivere nutrition la pappa reale contiene dieci nutrimenti che rigenerano i capelli secchi in un minuto sono intensamente nutriti rimpolpati setosi il 75 per cento delle donne l'ha constatato nuovo il vivere nutrition di l'oreal pari il vivere nutrition di l'oreal pari